Buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo un po' che si connettono un po' di persone, ci vogliamo subito scusare per il ritardo, ci sono stati un po' di problemi organizzativi, ma adesso siamo qui. Non so se aspettiamo qualche minuto, vediamo se arrivano un po' di persone. Allora, nel frattempo io cerco dai nostri ragazzi di condividere dal mio ID, già troviamo 500 persone, cerchiamo di capire se può collegare dal mio ID un'azione. Sì, sì, basta condividere. Ok, allora possiamo andare. Possiamo andare? Allora, possiamo andare, ci siamo? Sì, sì, siamo tutte pronte. Ok, entriamo. Ok, allora facciamo prima un giro di presentazioni. Io sono Rita, sono un medico, lavoro per un'organizzazione che si chiama Medici del Mondo. Presentatevi voi. Allora. Mitul. Sì, le donne prima. Grazie. Grazie. Ma vado la lingua mia. Ok. Mi, ma, mi ringraziodo. Grazie mille, grazie mille. Sono Baccio, origine del Bangladesh, sto quasi 30 anni in Italia, ma dispiace comunque ancora non ho imparato bene lingua italiana come devo imparare, ma in qualche modo cavo la situazione. Penso molto importante e utile questo tipo di live per la comunità, particolarmente per dare informazioni riguardo alla salute. Comunque, seguendo a voi, parole a dottoressa, vada, se abbiamo qualche domanda come personale, oppure la comunità, oppure come migrato sicuramente interveniamo. Grazie. Allora, giusto per organizzarci, quindi io sarò tradotta in lingua bangla da Mitul, invece tutto quello che dirà appunto Baccio come rappresentante della comunità, un esponente della comunità, un attivista. Baccio quindi parlerà sia in italiano e sia in lingua bangla. Questo giusto per sapere un po' come ci muoviamo, ecco. Medici del mondo è appunto un'organizzazione medica che lavora in più di 60 persone. Paesi, in tutto il mondo, si occupa di assistenza, di portare assistenza sanitaria in caso di calamità naturali, in caso di conflitti armati e anche sulle rotte migratorie. E lavoriamo in Italia da diversi anni e da marzo siamo impegnati anche sul covid-19. e lavoriamo in tutto il mondo. Le attività che abbiamo organizzato appunto in Italia sul covid, alcuni di voi sicuramente già conoscono, c'è la nostra linea telefonica in collaborazione con l'ASL Roma2. È una linea soprattutto, diciamo, dedicata alle persone che non hanno possibilità di avere il medico di base, ma anche alle persone che hanno il medico di base, ma magari hanno la difficoltà della lingua perché appunto sulla nostra linea telefonica lavoriamo insieme ai nostri mediatori interculturali. è una linea telefonica. È una linea telefonica. Quindi, diciamo, adesso io parlerò un po' dell'ultimo DPCM, anche se domani ne avremo sicuramente un altro, però, diciamo, faccio un'introduzione, ripercorrò un po' tutte le norme che sono valide fino a oggi, ecco. Quindi parlerò un po', farò un accenno al DPCM che è valido fino a oggi perché da domani può darsi che qualcosa cambierà, però faccio, diciamo, una carrellata delle cose più importanti. Adnan mai bordo, mai bordo! Donna vado, c'è al Corini. Ambra, scuola, acce che s'arbo se il DPCM è s'arcare di cliccato, ecco, che è qualcosa di più importante, quindi acce che siamo avanti a aver, a noi, a noi, a noi, a questo, a noi, 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 a noi. Ok, quindi diciamo il DPCM che cos'è? Ormai lo conosciamo tutti, no? Sono queste misure di contenimento del contagio che sono valide fino a oggi su tutto il territorio nazionale italiano. Ok, la prima cosa che ci dobbiamo sentire, per ricordare, e lo vediamo qui, un bacio veramente testimone, è l'obbligo della mascherina, sia all'interno che all'esterno. Grazie. 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 Dottoressa, proprio poi ho una domanda, se può fare. Certo. Allora, quando voi dite che bambini non sono obbligatori, non lo so se bambini sentono fastidio o no, però la mia domanda è un'altra. Cioè, io sto con una mascherina, questo, perché per proteggere da altri virus, perciò può essere che questa parte dovrebbe essere qualche virus staccato. No? Allora, quando bambini vicina con genitori, cioè ad esempio io, no? Io sto con questa mascherina, sto tutto il giorno in fuori, poi vado a casa, mia figlia vengono, figlio vengono e bracciano. In quel momento quale atteggiamento devo seguire? Questa è una domanda. Se lei mi spiega, poi, dottoressa Mitul, che fa anche un po' di lingua bengalese, secondo me è meglio per tutti. Grazie. Ok. Vai, Mitul, traduci la domanda. Come tu dicevi, che sono stati stai anni bambini, non sono obbligatori, dimettere. No, no, il vengale è, vengale è si chi lo fa? No, no, scusa. No, no, scusa. No, no, scusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come diceva anche Baciu, la parte, diciamo, quella anteriore è quella proprio più a rischio, più sporca, se vogliamo dire. Quindi togliere la mascherina dai lati, poi dagli elastici e poi lavarsi bene le mani con acqua e sapone per un minuto prima di abbracciare, prima di stare con i figli. Questo è l'atteggiamento giusto. Grazie. Quindi lo sport, fino ad oggi, ripeto, tutto quello che diciamo oggi, magari domani cambia, però fino ad oggi è possibile svolgere attività all'aperto, come camminate, passeggiate, forse. Quello che non sono possibili sono gli sport, diciamo, di squadra di contatto, come il calcetto, però invece le camminate, gli sport individuali sono possibili. Grazie. Quindi, per quanto riguarda, invece, le attività, per esempio, come il culto, no? Quindi pregare in una moschea, pregare in una chiesa, al momento sono consentite, quindi è possibile, quindi tutti i luoghi di culto al momento sono aperti. L'importante è che rispettino le norme, quindi numeri limitati, obbligo sempre della mascherina, obbligo di igienizzare le mani all'ingresso e distanziamento all'interno del luogo. Grazie. Per quanto riguarda, invece, purtroppo anche i cinema, i teatri sono stati chiusi, e quindi non è più possibile andare. Come anche le sale da ballo, anche queste sono state chiuse. Baci, vai tu. Allora, sì, anche questa situazione va bene, è giusto la informazione, però sempre una critica, sempre una domanda. Per il punto di vista tecnico lei deve fare una risposta, perché politicamente abbiamo visto in Italia anche un'altra opinione. I cittadini scendono in piazza per rompere questo barriere, diversi piazza addirittura andate a estrema situazione con l'ordine pubblico per rompere proprio questo. E proprio Roma, altro ieri, erano una manifestazione, primo autorizzato a Piazza Indipendenza per mettere come presidio, dopo comunque anche fatto il corteo. Il logico, c'è la mia domanda questa, però chiedo perché è una versione politica e è un'altra cosa a voi, dottori, che deve dare informazione a noi, tecnica. Cioè, i manifestanti, portato questo, un esempio, sì, voi chiudete, facciamo un metro lontano, due metri con mascara, però alle sette di mattina, otto di mattina, il metro, il tram, l'autobus, pieno di gente. Ma quale convenuto o convengono che orario dell'ufficio andiamo tutto uno sopra un altro e poi dentro l'ufficio dobbiamo rispettare lontano oppure luogo del lavoro? Cioè, questa situazione, voi come tecnici del salute, cioè come spiegate, cioè quale informazione date? Cioè, la domanda non lo so se è riuscito a spiegare. Questo vorrei capire come dalla piazza e anche come un genitore essere un cittadino, perché un punto di vista politica è un altro punto di vista tecnica del salute. Cioè, quale, voi volete dare la risposta per la comunità sia dei migrati sia per anche italiani che non vuole accettare questo DPCM in quanto dicono, criticano, che diversi orari, siamo tutti uno sopra un altro e un altro orario non va bene. Chi traduce il medaglietto? Io non ho sentito dall'inizio, quindi... Vedi io, vedi io, vedi io. Vedi io. Vedi io. grazie anche per questa domanda allora diciamo che le misure di contenimento quindi del virus e di mitigazione della diffusione del virus vengono scelte e vengono decise da un comitato tecnico che tiene conto di diversi parametri è diciamo una valutazione molto complessa anche se ai nostri occhi sembra una cosa facile un numero che sale, un numero che scende ma non è solo il numero dei contagi sono più parametri che vengono studiati da una commissione tecnica e poi questa commissione tecnica cerca diciamo con un principio che è il principio appunto di massima precauzione questo ce lo dobbiamo proprio ben memorizzare quindi tutte le scelte vengono prese su questo principio di massima precauzione allora in base a questo si sceglie di volta in volta di diciamo plasmare in base alle varie realtà da domani le varie realtà regionali saranno valutate e in base a questi dati che vengono fuori vengono stabilite le misure che vengono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ripeto, a scegliere le misure è un comitato tecnico e quindi il comitato tecnico fa, in base alla realtà delle varie città, decide di adottare alcune misure. È veramente complesso spiegare come vengono scelte perché sono più carame, non sono solo i casi di contagio, qual è la possibilità del sistema, delle varie regioni di rispondere. Sono veramente tanti e in base a questo si sceglie di prendere delle misure, tutte le misure magari non sono perfette, non c'è una risposta perfetta. Esatto. È una pandemia mondiale, non conosciamo, stiamo ancora studiando il virus. Quindi quello che si fa è appunto cercare di ridurre il più possibile i contagi della propagazione e quindi la diffusione del virus attraverso tutta una serie di misure che sono appunto non perfette. No, perfetto, soltanto chiedo una cosa, realmente dobbiamo arrivare, cioè la domanda, i cittadini che fanno sopravollamento, non sopravollamento, dentro pullman, autobus, metro, questo bisogna evitare? Questa è la domanda nostra. Questa è la domanda. Questa è la domanda. grazie a tutti che ci sono i nostri amici, e 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 ci sono i nostri amici. Ok, allora tutti noi dobbiamo essere responsabili, e cerchiamo di evitare più, meno contagi e meno affollamento. È possibile fare un'altra domanda, per capire un po' ancora meglio. Cioè, questo qualche, come possono dire, può creare qualche problema, cioè se uno, un cittadino, realmente non ha nessuno sindrome, sindromi come Covid, non c'è, non vedo, una persona proprio perfetta, pulito, proprio sana, non sentono, né ha un febbre. È possibile da questa persona conteggiare altri? Questa è la mia domanda, cioè da una persona sana, cioè abbiamo trovato una casa a Roma, la signora non esce mai dalla casa, mai, e suo marito va al lavoro, e la signora, dopo abbiamo trovato positivo. positivo. Ma il marito è sano. Però, attenzione, intera, due mesi, la signora non è uscita dalla casa, non è venuto nessun ospite dentro casa, soltanto marito che è andato fuori e è ritornato. Il marito è sano, la signora ha attaccato il positivo, diciamo, trova positivo. Cioè, quale spiegazione scientifica di questo? è qui la della popolazione scientifica della wernea, prima ci mia sovi рок, di questo, se abbiamo fatto già su, grazie a tutti grazie anche per questa domanda la cosa importante da dire prima è che c'è una differenza tra le persone che sono positive e le persone che sono positive e sono malate quindi io posso essere positivo però non avere nessun sintomo non ho la febbre, non ho la tosse, non ho l'affreddore non ho dolori ai muscoli non ho difficoltà quando mangio non ho nulla però io posso poi dipende anche dalla quantità di virus che ho dentro perché anche quello è un altro elemento importante però posso trasmettere il virus a mio marito quindi io non sento nulla mio marito può diventare positivo oppure anche ammalarsi e io sto bene questa è una prima cosa l'altra cosa è che il virus può entrare in casa anche attraverso gli oggetti se noi andiamo a fare la spesa al supermercato e quindi ecco perché è molto importante igienizzare bene prima di tutto le nostre mani che sono diciamo la forma il mezzo dopo diciamo l'aria dopo queste goccioline che fuoriescono sono il secondo mezzo di diffusione del virus quindi le nostre mani e poi anche gli oggetti non lo so l'abuso di stare un po' attenti quando portiamo delle cose da fuori che arrivano da fuori quando andiamo a fare la spesa in vari posti ecco questo è importante è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oppure perché magari io sono positiva e non mi ammalo e un'altra persona invece magari mio marito che nella mia stessa casa si ammala. Perché ognuno di noi ha delle difese diverse, non rispondiamo tutti allo stesso modo al virus. Ci sono alcuni di noi che riescono a difendersi e quindi il virus sta lì ma non si sviluppa la malattia. Invece ci sono altre persone che possono essere più deboli come persone anziane oppure persone che hanno delle altre patologie come il diabete, problemi al cuore, problemi ai polmoni che possono invece sviluppare la malattia. Grazie a tutti. 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 Allora, per quanto riguarda la scuola, la cosa che è vietata dappertutto in tutta Italia sono le gite scolastiche. Poi fino ad oggi, diciamo, le attività scolastiche sono possibili. In alcuni casi è consigliata soprattutto per le scuole superiori la didattica a distanza, in altri casi invece si continua tranquillamente in presenza. Da domani forse ci saranno dei cambiamenti sulla scuola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo signore è arrivato dal Bangladesh, ma dopo 14 giorni lui deve fare il test di nuovo o no? In realtà mi sembra... Dice che dopo quarantena di 14 giorni deve fare il test di nuovo, tampone di nuovo o no? Allora, diciamo che sui viaggi è necessario vedere le singole traiettorie di ognuno, nel senso che al momento sono vietati i viaggi diretti dal Bangladesh all'Italia. Quindi, se consentiti, perché magari ha fatto delle tappe intermedie... Dottoressa, un attimo, è cambiato il regolamento. Questa informazione che lei sta presentando erano dieci giorni fa. Adesso comunque è riconosciuto, vuole diretto dal Bangladesh all'Italia. E sono necessario... Allora, la domanda chiara, diciamo... La domanda era questa... Se un cittadino del Bangladesh comunque adesso direttamente consentito rientra in Italia e per la stessa persona, diciamo, rimane 14 giorni quarantena dentro casa, dopo 14 giorni... È obbligatorio fare test covid o no? E questa è la domanda su, diciamo. Allora, in realtà dopo i 14 giorni di quarantena non c'è bisogno di fare il test. Ormai, diciamo, il test a fine dei 14 giorni non è più previsto. Quindi, in alcuni casi, il test è previsto all'ingresso direttamente... Per alcuni paesi è previsto all'ingresso direttamente in aeroporto. Per esempio, sul vicino, se parliamo su Roma, c'è un grosso drive-in e lì viene effettuato direttamente il test. Poi non c'è più bisogno se non ci sono sintomi. Asha, gore, ne bhai, utropegacen, jodi apner kono lokkho nathake, codo din quarantener pore, tahole arnotun kore test korta habena. Baccio bhai, ami bholko le volvena, Asha gore. No, no, bisho te itai, jodi che ho bangladestica, jodi, rona disse negativi, perché quando ho partito dal Bangladesh già c'è un test negativo, perché se no, non può volare. Allora, è arrivato in Italia e comunque l'aeroporto controlla la temperatura e se sta normale e loro deve fare un'autodicarazione, deve entrare una casa o un'abitazione privato che deve rimanere 14 giorni. Fino a questo, diciamo, c'è un regolamento internazionale. Dopo 14 giorni non ha un regolamento che il cittadino che cosa deve fare. Giustamente la dottoressa ha detto se non senti sintomi e non c'è nessuna preoccupazione. Ma noi come associazione comunque consigliamo dopo 14 giorni vai al tuo medico privato e prendi una ricetta e fai un tampone e vedi cosa accade. Perché se no, dico dottoressa per molto, come si chiama, dolore, perché se trovano uno positivo e poi politicamente attaccano a tutta la comunità come è accaduto nel mese di luglio proprio, no? Tutti contro i bengalesi perché è venuto con positivo. Perciò questa è la mia richiesta verso la comunità dopo 14 giorni di comunque seguire e sentire, prendere consiglio dal medico di base. C'è un regolamento che il c'è, non c'è nessuno che il c'è nessuno che il c'è nessuno. C'è nessuno che si è accaduto nel corso, non c'è nessuno che il c'è nessuno che il c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 Più positivi maschi, non le femmine. C'è qualcosa a differenza del corpo della donna e dei maschio? Perché la maggior parte vediamo tutti positivi e defunti, maggior parte le maschi. Le femmine non le femmine non le femmine. Grazie a tutti. Non le femmine non le femmine. Non le femmine non le femmine non le femmine non le femmine. Per asiatici va bene. Per asiatici va bene. Per asiatici forse, però fuori dall'Asia, questa è un'interpretazione molto difficile. difficile. Sarebbe interessante fare uno studio sulla comunità bengalese. Allora, volevo parlarvi di una cosa importante per quanto riguarda... Qua mi riferisco soprattutto alla regione Lazio, perché è una direttiva della regione. Al momento, diciamo, per effettuare i tamponi, se è il proprio medico, ci dice, guarda, tu devi effettuare il tampone. Dopo spieghiamo anche quando deve essere effettuato il tampone. Partiamo prima dalla parte più burocratica. I tamponi nel Lazio, su Roma, al momento si possono effettuare solo dopo prenotazione online. Quindi il medico di base fa la ricetta. Si chiama ricetta dematerializzata. Viene inviata quindi direttamente tramite internet. Su questa ricetta c'è un codice. E poi bisogna andare con la propria tessera sanitaria e con questa ricetta, su questo sito che vedete sul video, www.salutelazio.it e seguire i vari passaggi. Sono tre passaggi che bisogna fare per prenotare il tampone. L'altra cosa importante, appunto, è che prima di effettuare qualsiasi test, io consiglio di parlare con il proprio medico. Chi ha il medico di base, oppure chi non ha un medico di base di parlare, per esempio, persone che hanno l'STP, che il codice è per persone che non hanno, non sono regolari in Italia, però possono chiedere di parlare con un medico all'interno delle ASL e chiedere un consiglio sul perché fare il tampone, perché è stato un contatto, perché ha dei sintomi. Perché così il medico può consigliare qual è il giusto test da fare e quando soprattutto farlo. Se farlo subito, se farlo dopo 10 giorni, cambia un po'. Qu'è? 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 L'altra cosa importante che hanno sintomi e si ha la febbre alta non bisogna andare all'istudio del medico ma prima fare una telefonata. In alcuni casi, se i sintomi sono molto gravi, non bisogna uscire per fare il tampone, ma l'ASL, quindi la responsabile della salute pubblica, può inviare una squadra di infermieri, medici, per fare il tampone a casa. Io sono aperta di nuovo, perché sto guardando le cose. No, no, no. No, no. No, no. Ma veramente succede così? Vengono a casa? Certo, assolutamente. Bisogna avere solo un po' di pazienza, perché ci sono dei giorni in cui le richieste sono veramente tante e magari il giorno stesso no, nelle 24-48 ore di solito si organizza. Poi dipende molto anche dalla gravità. Il medico che fa la richiesta si rende conto se è un tampone che deve essere chiesto in urgenza oppure no, perché cambia la situazione. Però, assolutamente, se la domanda arriva all'ASL, all'ufficio di igiene e salute pubblica, poi viene fatto il tampone a domicilio. Ripeto, i tamponi a domicilio non sono per tutti. Sono solo per le persone che hanno sintomi gravi, diciamo, non gravissimi da andare in ospedale, però sintomi per cui è meglio non farli uscire di casa perché possono essere come dei super diffusori del virus. Ecco perché viene fatto a casa il tampone. E poi volevo fare veramente un'altra domanda. Se a caso che il medico oppure pediatra rifiuta fare contattare con ASL, dice che io non ce la faccio, fate voi quel momento, come possiamo muovere? Perché è successo? Purtroppo anche i colleghi medici di base e pediatri in questo momento sono molto sovraccarichi. Ad ogni modo ci sono anche i numeri regionali, il numero regionale nel Lazio, quindi si può chiamare direttamente il numero regionale. Se sono persone che, soprattutto se sono persone che non hanno invece il medico di base e vivono, diciamo, sul territorio dell'ASL Roma 2, anche noi possiamo fare un po' da facilitatori, diamo una mano ai colleghi. Sì, queste sono le due strategie, almeno qui. Ah, tradusco. Se no puoi riprovare. C'è anche l'opzione, diciamo, laboratori privati accreditati dalla regione Lazio. Ci sono quindi, se si va sul sito della regione, c'è una lista di laboratori che la regione ha detto, lì potete fare i tamponi con un prezzo, si dice, calmerato. Nel senso hanno dovuto rispettare un determinato prezzo dato dalla regione. Sì, questa è una situazione. Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Adesso se ci sono altre domande abbiamo tempo per altre due domande. Non so se nella nostra chat ci sono domande. Non so se nella nostra chat ci sono domande o se anche voi che siete qui con me. Grazie a tutti. 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 Guardiamo il nostro numero di medici del mondo che è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il numero è 351 022 1390. Allora una domanda dottoressa? Sì? Per viaggiare dall'Italia al Bangladesh, i governi bengalese chiedono un test negativo. Sì. Allora, diverse volte abbiamo trovato una difficoltà, enorme difficoltà, che quando il cittadino deve partire dall'Italia in Bangladesh, il medico del base non scrive nessuna ricetta. Dice, tu stai sano perché io devo scrivere? Questa è una domanda. Oppure, autonomamente, quando vanno alla ASLE, stessa cosa che non vuole fare, come si chiama, del tampone o di fare questo tipo di test. Per loro, quale consiglio voi date? Cioè, se uno domani, diciamo, settimana dopo deve partire per Bangladesh, e dogana Bangladesh chiede questo, diciamo, certificato del test negativo. Allora, per quanto riguarda la normativa italiana, in caso di tamponi per motivi di viaggio, quindi di test chiesti dai vari paesi. Poi, adesso stiamo parlando del Bangladesh, ma diversi paesi chiedono il test negativo prima dell'imbarco. Si può fare, la normativa italiana prevede la ricetta bianca, quindi il medico di base, il medico dell'ASLE, può fare la ricetta bianca, con quella ricetta bianca andare al CUP a prenotare e a pagare un ticket nel Lazio di 69 euro per il tampone, oppure nelle strutture private. Questa è la normativa italiana, non è che non vogliono, non possono fare i medici. La ricetta bianca. Va bene, un altro domanda a questo. Però traduciamo, traduciamo la mia parte. Mitul. La ricetta bianca. 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 No, no, no. Va bene. Ogni tanto accade questo per l'impegno del lavoro. Ultima domanda per merito questo del viaggio. se il mio medico di vasi scrive una ricetta bianco nero gioco scrive entro quando tua oh scusa puf mi fissa l'appuntamento voi avete qualche idea entro quanto se oggi io io ricevo una ricetta dal mio medico dipende dipende dal tipo di ricetta nel senso che è una cosa è una ricetta rossa con magari l'urgenza perché ho dei sintomi un'altra cosa è una ricetta per viaggio sulle ricette per viaggio bisogna cercare lo so che è difficile trovare la prenotazione lo so che non è facile bisogna cercare un po di parlare con il cup oppure di andare magari a fiumicino di chiedere al cup di essere prenotati a fiumicino che diciamo che il drive in più disponibile per chi parte e per chi arriva e cercare nei tempi giusti richiesti dal paese di arrivo di avere il test lo so lo so che non è facile sono molte le persone che ci chiamano che hanno difficoltà a prenotare il test nei tempi richiesti dal paese diciamo di arrivo so che complesso però ecco andando al cup si può si può provare a negoziare il consiglio di chiedere la prenotazione a fiumicino perfetto ma qua che abbiamo parla e stiamo parlando cup regionale sì 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 no quindi anche telefonicamente no 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 è la prenotazione allora le prenotazioni dei drive in con ricetta rossa dematerializzata online ok le prenotazioni per i tamponi ancora si fanno ai vari gruppi si può andare anche di persona al cup di persona perché non c'è nessun codice quindi si deve andare di persona una ricetta bianca per i viaggi ma c'è una ricetta bianca ma c'è una ricetta bianca per i viaggi che non c'è nessuna ricetta bianca per i viaggi ma c'è una ricetta bianca per i viaggi ma c'è una ricetta bianca per i viaggi che ci stanno seguendo ringrazio in particolare la comunità appunto di roma con alcuni lavoriamo già da diversi da diversi anni all'interno di alcuni quartieri lavoriamo come medici del mondo e anche della fiducia che la comunità vendalese appunto ripone in medici del mondo chiamandoci al numero sono tante le telefonate che riceviamo eh dalla dalla comunità vendalese quindi io vi ringrazio sia appunto per la presenza in questa diretta per tutte le domande e speriamo di rivederci presto magari per festeggiare la pandemia sì meglio diciamo ci vediamo per la festa perché noi abbiamo come si chiama culturalmente dicono a quattro professionisti mai deve dire ci vediamo uno al medico uno alla polizia un avvocato e un altro meccanico della macchina a loro non dire mai che ci vediamo va bene se traduci i ringraziamenti ci salutiamo grazie a tutti i ringraziamenti ci sono grazie a tutti i ringraziamenti ci sono grazie a tutti i ringraziamenti ci sono